Saluto Alex Bernardo, Marco Sero, Benedetto Manasseri, Niccolò Giramonti, Giocopan Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della nostra carriera allenatore con il Mansfield Town e ragazzi oggi abbiamo da giocare l'importantissima partita di precampionato per vedere se riusciamo ad avanzare i punti sono lì messi in classifica un aspetto importante della carriera allenatore è la plusvalenza dei giocatori se credete in un vostro pupillo anche più in là con l'età prendetelo alla cifra più bassa possibile e valorizzatelo sarà bellissimo vedere il suo valore alzarsi e guadagnarci da un'eventuale ventità futura sono soddisfazioni che vi fanno capire quanto state lavorando veramente bene e logicamente ragazzi ho chiesto informazioni per alcuni giocatori però altri giocatori ragazzi sono qui eccoli qui, lista preferiti sono qui allora vorrei provare Urtato sempre per il discorso centrocampisti ormai penso che l'abbiate abbastanza capito poi vorrei provare Osadebe giocatore del Gillingham che ha un buon potenziale poi Godfrey lui parte con un overall più basso ma potrebbe crescere bene poi Isaiah Brown che anche qui ti dicono mostra un ottimo potenziale e potrebbe essere interessante per la mediana ragazzi per affrontare la squadra non voglio rivelarvela velocissimamente nuova diciamo di precampionato ragazzi guardate ho fatto una variante con un 4-3-3 di contenimento quindi ho messo Leale un po' più avanti con Hamilton e Hemmings messo Green come punta centrale B-Rom a fare playmaker mezza alla sinistra Maguire a difendere anche se un po' vecchio Ronan il nostro nuovo acquisto subito in campo White, Pierce, Tuff, Benny e Keen in porta quindi ragazzi direi che possiamo andare a provare a giocare questa partita prima però dobbiamo vedere le email allora contro offerta di Alex Pattison già questa cosa della contro offerta non mi piace granché io voglio dargli massimo 2 milioni eh 2 milioni sì 2.100 e contratto turnover perché altrimenti vado su un altro centrocampista allora offerta troppo bassa per Wimans vogliono 2.40 va bene andiamo a 2.90 e magari potrebbero cedere quelli del Cardiff City però non ne sono sicurissimo per Adam Robinson ok non vogliono trattare una cessione o Coffi neanche Osa Debe 140.000 che è una buona cifra io andrei con 100.000 euro per questo centrocampista 19enne vediamo un po' che succede per Ben Godfrey si è appena unito va bene va bene così vediamo i colloqui giocatori lo vuole giocare un pochettino allora per tenere il morale alto ragazzi direi di metterlo in campo o meglio di portarcelo in panchina e poi inserirlo magari non titolare perché voglio provare il green però diciamo che al posto di Oban che comunque ha già fatto due partite ci portiamo il nostro Love e lo mettiamo nel secondo tempo quindi ragazzi leggenda 5 minuti sereno si va nel match si comincia ragazzi dobbiamo assolutamente vincere contro quest'altra squadra norvegese lo Stabaek che diciamo è un po' più conosciuta come squadra ma sicuramente può darci fastidio abbiamo solo la vittoria e dobbiamo sperare che il Lugano batti l'altra squadra norvegese non sarà semplice ma noi ci proviamo ancora vediamo il pallone dentro green la mette dentro c'è il destro rimpallato maledizione ancora Ronan giocatore comprato in questa sessione di mercato che passaggio Ronan vai così Emmings vai così Emmings uh peccato per un attimo purtroppo e finisce qui il primo tempo ragazzi una partita dove abbiamo giocato praticamente solo noi non abbiamo corso rischi ma non ci siamo fatti vedere in zona realizzativa allora Ronan il nostro nuovo acquisto sta giocando veramente bene B-ROM guardate si stanca sempre in una maniera assurda allora entra Baxendal poi la difesa va bene Hamilton magari non mi è piaciuto tantissimo metterei Potter per variare un pochettino ora esce fuori White che vede Potter Potter può andare Potter prova a metterla dentro bella occasione qui tienila tienila con la sua bravissimo ancora pallone in mezzo qui fanno un buon movimento i miei giocatori bella questa palla attenzione proprio il nuovo acquisto 1-0 il nuovo acquisto a dimostrazione ragazzi che anche un 56 57 58 può fare la differenza se è un fenomeno ragazzi ma avete visto che inserimento rivedete l'azione ha fatto un inserimento da grande giocatore guardate come lui correva ancora ho visto il movimento tra le linee destro secco non sbaglia e firmiamo l'1-0 grandissimo il nostro rosso di capelli il nostro nuovo acquisto che giocatore ragazzi subito in gola all'esordio chi se l'aspettava festeggia il nostro avatar che non è proprio uguale a me siamo 1-0 per noi azione interminabile da parte dei nostri eccolo il pallone dentro Ronan altro passaggio fenomenale la palla resta lì green mamma che occasione Benin può tenerla e può avanzare su questa fascia c'è qualcuno in mezzo sì ci dovrebbe essere green pallone dentro rimane lì Emmings 2-0 ragazzi importantissimo per probabilmente chiuderla lì questo 4-3-3 ragazzi gira a meraviglia eravate un po' titubanti dal primo episodio sul modulo effettivamente quello non è un modulo per la nostra squadra ora con le dovute proporzioni dobbiamo ancora valutare bene qui è arrivato abbastanza casuale il cross dobbiamo ancora valutare bene questo modulo però mi sto trovando veramente benissimo poi quando compri centrocampisti di questo calibro il gioco diventa più facile penso crescerà tanto Ronan che ora vedete esultare perché è veramente strepitoso e le ali d'attacco così girano benissimo che sono abbastanza buggate sapete sono velocissime ovviamente ragazzi dobbiamo vedere un po' di prendere altri centrocampisti se vogliamo usare il 4-2-3 altrimenti abbiamo poche alternative soprattutto come cicci puri poi Ronan e il nostro capitano non possono farsi tutte le partite logicamente vai Benin puoi correre puoi correre Benin bello il filtrande per Green Green frena uh bellissima questa palla difendila c'è ancora Ronan col destro parata incredibile vai Baxendal Baxendal si mette in proprie allarga il pallone sempre per Ronan il destro palla fuori di un niente la teniamo noi con Keen e finisce qui il match ragazzi riusciamo a vincere 2-0 con un Ronan ragazzi nuovo acquisto fenomenale veramente mi ha impressionato siamo 2-0 per noi ragazzi le statistiche parlano chiaro ora dobbiamo vedere se siamo riusciti ad andare avanti alla fase eliminazione diretta io spero dopo una bellissima prova il Lugano ha fatto 1-1 ragazzi quindi ci siamo siamo in serfinale contro il Motherwell squadra se non sbaglio scozzese facciamo gli allenamenti ragazzi però cambierò la sessione di allenamento al posto di Baxendal voglio mettere come centrocampista il nostro Ronan che è anche lì per salire voglio allenarlo soprattutto nei tiri perché è un giocatore che si inserisce in una maniera clamorosa e infatti lo facciamo allenare lì vediamo se riesce a salire sarebbe grandioso no salgono però ben 3 giocatori Taft Hawkins e Benny anche Hamilton non l'avevo visto quindi ragazzi doppia salita per Taft se non ho visto male ragazzi mi pare che è salito di 2 overall poi con giocatori con magari caratteristiche un po' più basse come overall è più semplice andiamo a vedere nell'inforosa perché questo sarà un episodio ragazzi che voglio incentrare più sul mercato adesso e su questa prima partita che era fondamentale fatemi vedere Taft ragazzi è cresciuto di 2 in un solo allenamento è già un 65 tanta roba questo giocatore ho visto già un po' di mail interessantissime io me le andrei a vedere ok il Chardon ha accettato per Charles Cook 210.000 euro allora offriamo 1000 euro come stipendio e mettiamo per il turnover perché alcuni non accettano io non voglio giocatori scontenti Ronan vabbè lì ha un ruolo un po' più importante ma veramente mi ha sorpreso Dozel ok non lo vogliono dare per me va benissimo figuratevi vado su altro anche a Denlinan Shettle va bene Urtado mi piaceva però purtroppo non lo vogliono dare vabbè per Isaiah Brown ragazzi 3.400.000 assolutamente fuori portata prende anche tanto di incaggio premio torneo quanto ci è arrivato 450.000 euro aggiuntivi per i trasferimenti siamo 1.12.000 quindi niente male ragazzi direi che possiamo avanzare ancora un pochino prima di arrivare alla sfida contro il Mother Wall allora vediamo ecco qui offerta accettata di Pierce ragazzi sono andato a ora vedete tutte offerte accettate con calma le vediamo sono andato ad accettare ad accettare sì a rinnovare alcuni contratti soprattutto quello di Pierce ragazzi che era in scadenza e non volevo perdere allora il Gillingham ha accettato 100.000 per Rosadebbe questo giocatorino di 19 anni niente male anche a lui offriamo 1.000 euro 4 anni mettiamo anche a lui turnover perché non devono essere per niente scontenti e fondamentali in queste categorie basse ragazzi Pattison ha accettato quindi in teoria già potremmo portarcelo a casa faccio aspetta perché voglio vedere anche gli altri centrocampisti il Cardiff City ha accettato per Weemans mamma mia Weemans mi piace un sacco ragazzi sospettavo prendesse un po' di più di stipendio veramente secondo me fenomenale mettiamo anche lui turnover poi nel caso gli modifichiamo il ruolo squadra però per il momento andiamo così Pierce ha rinnovato il contratto mamma mia meno male non volevo perderlo e quindi direi di avanzare vediamo un po' no abbiamo già la partita col Motherworld perfetto perfetto allora ragazzi facciamoci la formazione in live un po' in diretta con voi direi che dobbiamo sostituire un po' di giocatori perché sono stanchi allora come centrocampista usiamo sempre il 4d3 che ci siamo trovati bene metterei Rose come attaccante emmings voglio provare sinceramente mcdonald dall'inizio emminton lo lasciamo ronan è un po' stanco vabbè comunque la prova positiva l'ha fatta metterai collins ragazzi che se non sbaglio può fare il cdc perfetto perfetto è un difensore centrale ma può fare il cdc lui può fare il cc mcguire diciamo vedete abbiamo carenza di centrocampisti per quello dobbiamo comprarne addirittura anche due potremmo comprarne perché guardate se voglio cambiare mcguire non ho alternative alla fine quindi per il momento proviamo a giocare ancora con mcguire anche se un po' stanco birom tanto nel secondo tempo lo dobbiamo sostituire sicuramente con ronan taft e pierce stanno bene però pierce fresco di rinnovo lo lascio taft è salito di due però vorrei provare hawkins benin facciamo giocare dan qua quindi direi che l'abbiamo fatti ruotare un po' tutti cambiamo il portiere mettiamo jensen così magari non è scontento al posto di white ci mettiamo bene quindi l'abbiamo cambiati un pochettino tutti per farli ruotare leggenda 5 minuti coperto si va nel match semifinale ragazzi o quarti di finale non ho visto prima ma penso quarti o no forse potrebbe essere anche le semifinali contro il model come avevo detto è una squadra scozzese ricordavo bene nel campionato del Celtic l'ho vista giocare un pochettino questa squadra no è semifinale qui ce lo confermano dalla grafica quindi poi nel caso affrontiamo o il Lugano contro cui abbiamo già perso o il Toon altra squadra interessante ragazzi vedete tutte le squadre che entrano in campo siamo carichi ecco il nostro McDonald giocatore da seguire Emel vabbè vediamo questo scozzese di 34 anni non so cosa abbia proprio di speciale però giocatore da seguire spero non ci segni lui eccolo qui quindi ragazzi dobbiamo assolutamente cercare di vincere per avere più budget per il mercato perché siamo oltre un milione già possiamo fare un colpaccio poi nel caso in qualche ruolo dobbiamo decidere bene addirittura qui ragazzi in semifinale ci fanno vedere anche le formazioni noi quella del Motherwell ce la andiamo a vedere 4-4-2 e non sarà semplice quindi sotto è forza Manfield Town ripartiamo con Hamilton vai Hamilton che sei una freccia guardate quanto corre Hamilton ragazzi veramente un pilota di Formula 1 vai che c'è il tuo compagno in aria mettigliela bene oddio stava uscendo un gol assurdo bellissima questa palla mamma come ce ne siamo usciti però altro calcio di punizione ragazzi importantissimo no dai se mi segnano da qui è proprio sfiga però magari hanno buoni tiratori questo non lo so che parata di Jensen B-ROM con la sua tecnica attende un compagno in sovrapposizione vai Hamilton vai Hamilton rientra pallone dentro B-ROM col sinistro palla fuori di niente ancora Dan qua pallone dentro per Maguire Maguire allarga ancora B-ROM vede il taglio perfetto di Rose 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 col destro palo possiamo fare qualche cambio purtroppo a centrocampo sono un po' obbligato solo Baxendal posso metterci perché poi abbiamo anche il nostro Ronan ma magari negli ultimi minuti perché è veramente stanchissimo poi al posto di Dan qua no diciamo di non sostituire granché serve un'alternativa a centrocampo mettiamo Potter al posto di McDonald che mi ha sbagliato degli stop assurdi oddio Rose attaccala alla profondità che culo qui che fortuna bravo Rose metti là dentro pallone lì Collins traversa incredibile colpo di testa non ci credo vai Potter corri sulla fascia Potter rientra ne salta uno vai Potter metti là dentro Rose la parata la palla resta lì 1-0 mamma mia Rossi gli ho dato fiducia stavo cadendo dalla sedia e riusciamo e riusciamo ad andare sull'1-0 mamma mia che azione del nostro Potter qui parato il primo tiro poi mette il gambone o meglio il piedone e la buttiamo dentro ragazzi importantissimo questo gol perché ci consente di andare in vantaggio mamma mia come esulta il nostro avatar e andiamo avanti così Danny Ross primo gol in precampionato per lui praticamente adesso stan per finire la partita dobbiamo solo resistere gli ultimi minuti occhio a questo lancio lunghissimo speriamo ci arrivino i nostri difensori no no ti prego mamma mia ragazzi finisce con questo tiro la partita abbiamo rischiato sull'unico tiro del secondo tempo ragazzi ci portiamo a casa questa vittoria e quindi siamo ufficialmente in finale ottimo ragazzi perché abbiamo molto più budget la finale sarà con Lugano e ora Lugano ti voglio ti voglio in finale dopo che ho vinto vinto sì ho perso all'andata nel girone che poi non è un'andata è una prima partita del girone voglio vedere la mia squadra se è cresciuta quindi interessante vedere in finale se siamo migliorati se ci troviamo bene col modulo ma prima vediamo un po' di mail prima di chiudere l'episodio conferenza stampa facciamo che motiviamo i nostri giocatori perché è difficile la sfida Charles Cook mamma mia l'ingaggio che mi è stato offerto è troppo basso maledizione pretende troppo vabbè allora facciamo così io offro i 1250 anzi facciamo 12 che dice lui però ti metto sempre per il turnover perché voglio vedere un po' non è detto che possa giocare titolare premio torneo altri 650 mamma mia ragazzi perfetto perfetto 1.760.000 alla grandissima alla grandissima lì proviamo anche magari un bel colpo in qualche reparto vediamo vediamo se arriva qualche mail adesso ragazzi ok un po' di mail ci sono offerta da sferimento per low ragazzi che mi sono dimenticato di metterlo allora presto per un anno ragazzi direi di mandarlo 17 anni può arrivare sul 55 56 quindi perfetto così magari non è neanche scondendo se non gioca poi contro offerta anche lui vuole un ingaggio un po' più alto o sa deve va bene dai facciamo 1150 a lui vediamo se accetta sempre turnover questa è la cosa ragazzi che più mi interessa perché altrimenti poi ci sono malcontenti women's anche lui ingaggio troppo basso va bene normale noi ci proviamo offerto 2000 forse lui 2-2 potrebbe accettare però non so se per il turnover accetta questo è un giocatore già molto più interessante non lo so non lo so sinceramente però vediamo vediamo non è detto avanziamo per vedere le ultime mail perché con Lugano voglio giocarla nel prossimo episodio come partita è una finale poi sarà alla fine solo calciomercato charley cook ragazzi ha accettato allora facciamo così vi lascio col dubbio perché penso di prenderlo alla fine però non sono sicurissimo vi lascio col dubbio anche Pattison in teoria però vorrei aspettare anche l'altro 19enne per rendermi conto tanto dopo la partita con Lugano bene o male possiamo decidere un po' per vedere se il centrocampo va migliorato se dobbiamo ancora intervenire magari in un altro ruolo se ci troviamo bene con 4-3-3 questa è una partita fondamentale in finale per vedere come vogliamo muoverci tanto le trattative ragazzi restano qui trattative in corso vedete Pattison e Charles Cook nel caso possiamo confermarli rapidamente abbiamo Wimans e Osadebe vorrei più Osadebe nel caso accettasse comunque possiamo prenderli ne vorrei prendere 2 su questi 4 sinceramente per il momento poi dato che abbiamo un buon budget arriviamo sui 1500 1400 circa possiamo provare anche qualche colpo e vedere di ragionare abbastanza bene quindi ragazzi spero che anche questo episodio vi sia piaciuto supportatemi con un mi piace iscrizione al canale noi ci vediamo in un prossimo episodio e vi ricordo come sempre l'hashtag più qualità meno quantità ciao ragazzi ciao